Musica Ci sarà il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Frattin, all'apertura ufficiale dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università degli Studi di Teramo, che si terrà martedì prossimo, 12 marzo, alle ore 11, nell'Aulamagna Benedetto Croce. La cerimonia inizierà con la relazione del Rettore Dino Mastrocola. Tra gli interventi più attesi, quello del Professor Enzo Di Salvatore, Presidente del nuovo corso di laurea in diritto dell'Ambiente e dell'Energia, unico in Italia. E poi appunto il gran finale con il Ministro Gilberto Picchetto Frattin, che prenderà la parola. L'apertura ufficiale dell'anno accademico è la decima nella storia dell'Università di Teramo, che ha appena celebrato il trentennale della sua istituzione, avvenuta il 1 novembre 1993, quando ci fu il distacco dall'Università d'Annunzio di Chieti. Nel corso di questi 30 anni, molte personalità hanno presenziato all'inaugurazione. Tra questi, il Presidente della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre, nel 1995, alla prima inaugurazione dopo l'autonomia. Ma anche il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Piero Alberto Capotosti, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ortenzio Zecchino, nel 2000. Nel 2001, il Ministro dell'Università, Vincenzo Sica, e Kate Campbell, scienziato dell'Università di Nottingham, con Silvio Garattini, Presidente del Consorzio Mario Negri Sud. Nel 2002, il Presidente del Consiglio di Stato, Alberto De Roberto. Ospite nel 2004, l'Abruzzese Giovanni Legnini, allora Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel 2020, infine, l'inaugurazione dell'anno accademico fu celebrata alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.